Ciao, io sono Sid e questa è Xiaxia la Pristina, livello 99, mai fightato, ho dato un po' di bonus e danni sui miei canoidi, ai miei gladius, anche nei dubiti, però in realtà. Il frammento migliore per questo fight è il frammento propulsore che trovate in Mordain, a livello inferiore dei mostri di livello 80, i Demons soprattutto lo droppano da soltanto bene. Ah, ma sono dimenticato un membro del fattico. E' un po' di due. E' un po' di due. Però qua sui combo in meno è che secondo me bisogna rompere i globes. ... ... ... ... Ok, guardate. Certi! ... ... ... ... E' una buona caratteristica E' un po' difficile per farce 2 globi addosso al mostro ma non credo di poterli far scoppiare 2 globi addosso al mostro ma non credo di poterli far scoppiare 2 globi addosso al mostro ma non credo di poterli far scoppiare 2 globi addosso al mostro ma non credo di poterli far scoppiare Sì, decisivo blow! Redeeming of choice! Mountain Crusher! No effect! Egeo! Eclipse! Blade! Quadrati! Two arms! Finish them! I'll broil you alive! Play combo! Third stage! Awesome! Anchor shot! Let me do it! I've waited for this all day! Provenance! Judgment! Blaze! Spinch from it right there! Sword back! Ha! 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 It's here! I need the rest! I'm alright! Who needs a hero? Fine! Yep! I've got it well in hand! Dramar! Unish your power! Come on! Man! Nip! 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 Come on honey! Let's go! What? You can do it right! Go for it! Now you can see what fire can do! I can do it! I can do it! I can do it! I can do it! Let's bring it into this! Let's begin! I'll finish what you stand! I'll finish what you stand! Nip! Rex! It's all yours! Let's finish it now! Element reversed! No, for the second! Mac Nip! Knife! Knife! Mark Nip! Rex! It's all yours! Cate! Don Manifadente! Di Dome! Helleran! You'll lose! Can't escape! efficace! Forse c'è una possibilità allora Egeo! Now you can hold back! Mac Nip! Rex! It's all yours! Sì, è vero. ooooh che cazzo stavolino non è vero non è vero, non è vero è vero, non è vero è impossibile non è vero felli faccia sei Mi sento meglio ora, grazie Morag Egeo! Eclipsi! Bladesi! Guardi! Possiamocire questo in un uomo! Utilizzare la vostra potenza! Ha! Friaro! Sì! 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 La scuola è del contatto! La scuola è del contatto! Sì! Un gato! Allora, acqua Molto bene, è morto Finchia con 2 Adesso faccio vedere un altro set up, se l'interessa è una rotazione di dove l'ho trovato Ah, io l'ho rotto anche in quel blog Per me Magnificente Rex, è tutto il tuo Adesso, non lo faccio Molto apprezzato Magnificente Enemio, subito Ah, sì Stare inusuale Difesa suprema e blocco difesa d'Ether Cos'è difesa suprema? Anche blocco è buono, anche difesa d'Ether Ottimo Accessorio sciabola Utilissimo Allora, vediamo un po' la location Quella che non vi ho mostrato è Praticamente vicinissimo a dove avete già fightato un boss Sta qua Voi vi teleportate qui, al porto di Bulge Tornate indietro di una stanza e lo trovate Questo ovviamente credo sia uno dei boss endgame Ciao, grazie